Buongiorno a tutti, mi spiace non poter essere con voi qui in prima persona, ma ci tengo a ringraziarvi per questo riconoscimento, del quale sono molto orgoglioso. Approfitto di questa occasione per spendere alcune parole per un settore, il nostro, che negli ultimi anni si ha ritagliato un ruolo sempre più centrale al fianco dei risparmiatori italiani. Siamo riusciti a far percepire chiaramente il valore della nostra professionalità. Ma non dimentichiamoci che abbiamo ancora davanti a noi tante sfide che arrivano dai mercati, dalla tecnologia e dalle normative. Sfide che sono sicuro che il nostro mondo trasformerà in altrettante opportunità, perché inserite in un trend di lungo periodo che sta rivoluzionando l'approccio degli italiani ai servizi finanziari. L'attenzione verso la pianificazione professionale dei risparmi cresce sempre di più, così come l'attenzione verso la qualità dei servizi offerti. Per questo sono convinto che questa nostra professione saprà darci ancora tanti stimoli e tante soddisfazioni e per questo vi ringrazio ancora per il premio che mi avete conferito.